Il 17 e 18 aprile affidabilità e tecnologie, siamo a Lingotto, innovazioni tecnologiche per le imprese competitive. Qui a Lingotto vengono presentate in incontri B2B le soluzioni più interessanti per rendere davvero competitive le nostre aziende. L'azienda nasce da esperienze precedenti legate a una società che vive nel mondo dell'attrezzatura per macchine utensili. Mancava questa società qualcuno che decidesse di utilizzare le macchine al meglio, allora nasce Black Wings come azienda, partner di chi vuole fare un prodotto. Specializzato ovviamente dai settori che in questo momento hanno più rilevanza anche sul mercato italiano che sono l'aerospace e l'energetico, ma anche l'automotive può usufruire dei nostri servizi. Black Wings è un'azienda che produce tramite dei suoi partner utensileria speciale a disegno e realizza, se il cliente vuole, anche lo studio di fattibilità del pezzo e tutto il processo produttivo. Che vuol dire quanto tempo ci vuole per fare quel pezzo, con che cosa bisogna farlo e dove. Quindi su che macchine utensili o nuova o presente all'interno dello stabilimento del cliente e tratta delle marche di produttori non conosciute sul mercato italiano attuale, che sono di provenienza in parte tedesca e in parte americana.